Siamo con Filippo Volandri alla fine del match con Gianluigi Quinzi Filippo, allora per te sempre belle sensazioni qui a San Marino Sì, sì, belle sensazioni, peccato un po' per come è andata Si sono spenti le luci, abbiamo dovuto continuare in condizioni difficili Faccio i complimenti a Gianluigi perché gioca veramente molto bene Deve arrivare tra i primi dieci perché sennò è un fallimento per lui Per il resto basta che impari un pochino di educazione e andrà alla grande Grazie, ciao